Vuole il cross per il Pampa Sosa, arriva il pallone per Sosa che riesce a saccare, poi De Zerbi alle spalle di tutti. Prova De Zerbi a girarsi con il tacco, De Zerbi va via, il cross morbido, messo fuori da Birindelli. Insiste ancora, trotto, attraverso il secondo palo, Bogliacino! 1-1, Bogliacino, 1-1. E' questo che la gente vuole vedere, un po' più di coraggio, è bastata una mossa, ha dato in là una scossa emotiva a questa squadra che stava subendo troppo insomma la pressione dei propri tifosi del San Paolo e ha messo sotto pressione la Juventus e ha trovato un bellissimo gol sul secondo palo con Bogliacino.